Un anfiteatro da 200 posti che si affaccia sul mare del molo trapezoidale di Palermo. Il sipario di CTC verrà aperto il prossimo 26 maggio con una rassegna estiva ideata dallo chef Natale Giunta che dell'anfiteatro è la titolare insieme al fotografo Pucci Scafidi e da Federica Inglese Drago. La prima ad esibirsi sarà la cantante algerina Carima. Oggi apriamo l'anfiteatro, oggi apriamo questo luogo che sarà un luogo di musica, di cultura, di spettacolo, di risate. Quindi iniziamo la stagione di questo meraviglioso posto, in questa location fantastica, il nuovo anfiteatro della città di Palermo. Ci saranno spettacoli naturalmente di musica, artisti siciliani, artisti non conosciuti, artisti importanti e cabaret. Quindi è un teatro che apre le porte alla città con una stagione interessante dove ci sarà un sito dedicato con tutte le date. E da lì potete vedere tutti i giorni quello che succederà in questo meraviglioso posto. Nasce sicuramente per l'amore per la musica. Nasce perché siamo innamorati di questa città. Speriamo in un posto così bello come il CTC di portare grandi musicisti e di fare un po' di arte e cultura in questo bellissimo spazio. La nostra prima serata sarà il 26 maggio con due spettacoli, uno alle 19.30 e uno alle 21.30. E avremo Karima che è un'artista fenomenale che si sta affermando in un panorama musicale anche importante. Lei ha fatto un pezzo con Mario Biondi. Potete acquistare i biglietti per partecipare alle nostre serate su Ticket One che sarà la piattaforma online dedicata. E inoltre ci sarà tutte le sere una biglietteria fisica un'ora prima di tutti gli eventi.